che nel nostro Paese è un problema, perché noi abbiamo avuto negli ultimi anni meno 10 punti di pilli e meno 30% di investimenti. Il mezzogiorno è completamente ignorato e questi sono i motivi, ce ne sarebbero veramente tanti altri, ma i due minuti non consentono di entrare nel merito, inducono che la componente conservatoria e riformisti voterà contro i due provvedimenti. Grazie. La ringrazio, deputato Palese. Ora la parola al deputato Walter Rizzetto, prego. Grazie, Presidente. Dunque, Presidente, il documento di economia e finanza è un alveo tendenziale prima della legge di stabilità che ci dice di fatto quanto si sarà scritto in legge di stabilità, bene fa il Ministro assente Padoan, ma degnamente sostituito, a dire che il documento di economia e finanza non va in Europa, ma è la stessa legge di stabilità che va in Europa. Allora, Presidente, prima abbiamo salutato i rappresentanti del Myanmar, probabilmente ascoltando qualche discussione, qualche buon intento, soprattutto da parte della maggioranza e di coloro che appoggiano la maggioranza. Sebbene queste persone avessero ascoltato questi discorsi e fosse stato tradotto quanto detto, si sarebbero messi a ridere pure loro innanzi a quanto stiamo drammaticamente vivendo rispetto al mitico oramai documento di economia e finanza. Allora non è vero, non è vero, collega Fanucci, che va tutto bene, perché Banca Italia, e vado a citare, parla di obiettivo ambizioso del documento di economia e finanza. Non è vero quello che avete detto, l'ufficio parlamentare di bilancio in modo indipendente, ed è probabilmente questo che vi dà fastidio, che l'ufficio parlamentare di bilancio sia un organo indipendente e non dalla maggioranza controllato. L'ufficio parlamentare di bilancio dice che per l'ennesima volta dal 2014 state sbagliando i conti. Dice che i conti non tornano. Nel 2014, in seno a quest'anno, ci sarebbe dovuta essere una crescita quasi esponenziale rispetto alle stime viste e soprattutto riviste in questi mesi. Riviste chiaramente sempre a ribasso. Quindi, Presidente, prendiamo atto che dal 2014 tutte le stime di coloro che dovrebbero farle, ebbene, sulla pelle degli italiani, sono sbagliate. Quindi questa è una dichiarazione di manifesta incapacità rispetto a quanto state facendo. Manifesta incapacità. Allora io mi sono letto sia il documento di economia e finanza, sia le note del documento di economia e finanza, e non vedo un rilancio per quello che di fatto sono i punti nodali di questo bellissimo ma disgraziato Paese entro il quale viviamo. Sottosegretario Baretta, io vorrei capire dove sono finiti i pagamenti da parte dello Stato alle imprese che avanzano dei crediti dopo aver fatto lavori nella pubblica amministrazione. Non state pagando queste imprese. Addirittura rischiamo, nei confronti di questa terribile Europa, rischiamo che i fondi europei vengano di fatto, voglio dire, chiusi, venga chiuso questo tipo di rubinetto per un difetto burocratico con Bruxelles. I fondi che l'Europa ci dà per lo sviluppo vanno a essere restituiti senza esserne utilizzati all'Europa. Vedo poco per quanto riguarda le aziende, soprattutto la piccola e media impresa, quella fatta da 7, 8, 10, 15 dipendenti che chiudono quotidianamente i battenti nel nostro Paese. Vedo poco per quanto riguarda un rilancio del lavoro. Presidente, ci stiamo attestando per l'ennesimo atto verso un numero strutturale di disoccupazioni in Italia che supera il 10%. Non riusciamo, neanche con tutte le manovre che sono state fatte, a diminuire quel dato del 10%. La disoccupazione probabilmente non cresce moltissimo, ma non diminuisce. Questo è evidentemente un problema. Non vedo un rilancio innovativo, importante, virtuoso per quanto riguarda lo sviluppo del mezzogiorno. Ora, Presidente, noi dobbiamo fare una cosa per quanto riguarda il mezzogiorno. Politicamente dobbiamo farla. Noi dobbiamo staccare la questione del mezzogiorno dalla questione del meridionalismo. È altrettanto chiaro che siamo una nazione per cui se il mezzogiorno d'Italia va bene, va bene, funziona bene, anche il nord dell'Italia di conseguenza funzionerà evidentemente meglio. E allora abbiamo invece bisogno di andare sempre subiudice, soprattutto nella prossima legge di stabilità, subiudice nei confronti dell'Europa. Dobbiamo farci dire se la prossima legge di stabilità da parte dell'Europa va bene o non va bene. Non lo diciamo i cittadini, non lo diciamo a coloro che frequentiamo, non ce lo diciamo tra di noi, opposizione, maggioranze. Prima deve andare in Europa. L'Europa ti dirà se questa è una cosa giusta o è una cosa sbagliata. E allora la risposta quale potrà essere da parte dell'Europa? Probabilmente un'altra lettera, Draghi Trichet, che chiaramente va a ricongiungersi, come in un cerchio, con quello che è, rispetto al referendum del 4 di dicembre, il vero disegno criminale di questo esecutivo, ovvero quello di donare, di dare una forte importanza al Governo e una poca rappresentanza e una poca importanza al Parlamento. Parlamenti deboli e governi forti. Questo diceva di fatto la lettera Draghi Trichet di qualche anno fa, una lettera che entrava di fatto nella sovranità che stiamo perdendo completamente innanzi al nostro Paese. E allora ci sarà, sottosegretari, un indebitamento sicuro ed una crescita incerta, anzi una non crescita. Parlate tanto e parliamo spesso di flessibilità. Ebbene, questo non è più uno Stato civile, questo non è più uno Stato di diritti. Se parliamo di flessibilità nel senso, addirittura il Ministro Paduan, permettetemi, si è permesso di dire che potremmo sforare il più o meno 3% del rapporto deficit-pill per arrivare a qualche punto in più, l'ha detto il Ministro Paduan in un virgolettato. Andiamo per l'ennesima volta in flessibilità in Europa, quindi a fare debito per quanto riguarda il tema dell'immigrazione. Attenzione, le persone che devono essere aiutate devono essere aiutate, ci mancherebbe altro. Ma se i famosi 35 euro al giorno per queste persone sono per loro un diritto attraverso i fondi cofinanziati con l'Europa, ebbene per me questi devono essere garantiti, i 35 euro, anche alle persone che hanno perso un lavoro, anche ai disoccupati, anche alle persone e agli italiani che dormono sotto un ponte, probabilmente in macchina. E allora state parlando del nulla, state parlando e state dicendo che non ci saranno nuove tasse, grazie, non ci saranno nuove tasse, ma le tasse le avete già aumentate. Perché quando, sottosegretario Ibiondelli, andiamo a toccare la sanità, i ticket, probabilmente non aumentano altre tasse, ma il cittadino andrà a pagare di più di ticket. Probabilmente quando un cittadino non riuscirà ad avere dei trasporti decenti in questo Paese, pagherà di più per essere trasportato o per andare da un posto all'altro. probabilmente quando è stato rivisitato il modello e il protocollo dell'Isee in seno alla scorsa legge di stabilità, ebbene il cittadino pagherà di più. Queste sono le nuove tasse che il governo Renzi ha messo. Però dopo alla fine dite sempre che non aumentate le tasse. Allora non vedo nulla in questo documento di economia e finanza rispetto alla scuola. Attenzione, prima abbiamo parlato di scuola. Due giorni fa a Padova se un insegnante non era così accorta e sentiva degli scricchioli, probabilmente qualche ferito tra gli studenti di sera. È venuto giù un controsoffitto di una scuola. Questo è quello che volevate fare con la buona scuola? Non sento nulla. O sento ben poco. C'è un capitoletto alla fine che riguarda le misure in materia previdenziale. Allora noi dovevamo categorizzare. Dovevamo dire mettiamo a posto i precoci con quota 41? Mettiamo a posto opzione donna, che voi lo sapete, è un sistema volontario per andare in pensione. Sottosegretari, non abbiamo i dati del contatore rispetto a opzione donna e rispetto alle pensioni di queste persone. Non abbiamo ancora i dati. Siete in ritardo. Non sento nulla rispetto alla definitiva. Io mi auguro salvaguardia degli esodati. E non sento nulla per le fasce deboli della popolazione. Vedo, voglio dire, un documento che lo rinnovo deve essere completamente subiudice rispetto ad un'Europa che in questo modo e così facendo non si piace. Ad esempio vorrei capire dai sottosegretari o dal Ministro Paduan se si degnerà nel suo provvedimento di fatto di venire in aula se la Tobin Tax, ad esempio, verrà raddoppiata, verrà raddoppiata in termini di pesantezza. E allora parlate di una manovra all'ordo di 24,5 miliardi di cui il 90% devono essere crescita. Crescita non ci sarà. Avete proposto e state proponendo il blocco delle clausole di salvaguardia. Non aumentate l'IVA. Voglio dire che questa è crescita. Non aumentate l'IVA. Punto. E se mancherebbe altro se aumentasse anche l'IVA in questo disgraziato Paese. Parlate di misure sociali per le pensioni. L'anticipo pensionistico è una schifezza. Un pensionato a 63, 64, 65 anni, Presidente, per andare in pensione deve fare un mutuo, un finanziamento dei prossimi 15, 20 anni della sua vita, dopo aver finito di pagare tutto il resto dei finanziamenti. Dite andiamo a fare il rinnovo dei contratti stipendiali degli statali e ci mancherebbe altro, altrimenti andreste incontro ad un'infrazione, probabilmente con delle munte. Quindi, chiudo, Presidente, dicendo che i dati di questo documento di economia e finanza sono completamente gonfiati. Chiudo dicendo che la disoccupazione è sopra il 10%. Chiudo dicendo che ci saranno delle nuove tasse implicite e non esplicite nei confronti della cittadinanza. E chiudo dicendo che, voglio dire, non fate sicuramente una buona figura a sbagliare costantemente i conti. Ne fate semplicemente una questione di prodotto interno lordo e non pensate invece che oltre al prodotto interno lordo ci deve essere una cosa che si chiama benessere per i cittadini. E i cittadini non sono in stato di benessere quando non riescono a prendere l'autobus, quando non riescono a prendere una pensione, quando prendono una pensione da 380 euro al mese. Chiudo, Presidente, non pensate mai al benessere dei cittadini. Io penso, Presidente, che questo documento di economia e finanza sarà ricordato nella storia come uno dei più grandi falsi in bilancio. Grazie. La ringrazio. Adesso la parola al deputato Bruno Tabacci. Prego. Signora Presidente, Presidente del Governo, un breve commento. Il relatore Fanucci ha parlato di un nesso tra speranza e perseveranza, una sorta di ottimismo della volontà. Non possiamo che convenire, e lo facciamo con il realismo della ragione. Abbiamo presentato come gruppi di maggioranza una risoluzione che impegna il Governo, in maniera molto dettagliata, a presentare con il documento programmatico di bilancio una manovra che utilizzi il massimo di indebitamento netto possibile per mettere in campo strumenti straordinari che siano in grado di dar sicurezza al territorio e, in particolare, alle infrastrutture scolastiche e, inoltre, affrontare il fenomeno migratorio. L'Europa non può non riconoscere la necessità di questo percorso e porsi il problema di affiancare alla politica monetaria espansiva della Banca Centrale Europea un coordinamento efficace ed espansivo delle politiche fiscali degli Stati dell'Eurozona.